Spider-Man 2 Spider-Man 2, film del 2004 sempre diretto da Sam Raimi e con protagonista Tobey Maguire nel ruolo dell'arrampica muri più famoso e amato dei fumetti e che questa volta dovrà affrontare uno dei suoi nemici più famosi di sempre ovvero il Dottor Octopus interpretato da Alfred Molina Dopo il successo del precedente capitolo era logico che Sony mettesse in cantiere un seguito con sempre l'argia a Sam Raimi ma con la sceneggiatura scritta questa volta da Alvin Sergent, Sargent, non so come si dice che per questo seguito decise di puntare sul percorso interiore del protagonista sui suoi conflitti e sul peso delle responsabilità che gli sono cadute sulle spalle arrivati a causa dei suoi poteri e Raimi contribuendo al tutto ci inserì dentro la trama del famosissimo Spider-Man No More il tutto contornato dalla lotta con Doc Ock, la storia d'amore con Mary Jane e la rivalità con Harry Osborn e con tutta questa carne al fuoco sarà riuscito Raimi a tirar fuori un film migliore del precedente? Eeeh non proprio a mio parere purtroppo ci sono delle cose che vi hanno fatto storcere non poco il naso ma andiamo con ordine e parliamo parlando della parte di film che prende spunto da Spider-Man No More non c'è moltissimo da dire, è praticamente perfetta col protagonista che non riesce a far coesistere le sue due identità a causa delle sue responsabilità come Spider-Man e delle sue responsabilità come Peter Parker e questo arco narrativo raggiunge il suo apice nella scena con C.O. Ben che riprende tra l'altro quella del primo film, meraviglioso di contro però c'è la storia d'amore con Mary Jane che santo cielo quanto è ingombrante almeno due quarti del film è dedicata a Mary Jane che si confronta con Peter sul fatto che si vogliono ma Peter non può mettersi con lei perché altrimenti essendo Spider-Man la metterebbe in pericolo come è già successo con Goblin e Mary Jane che per ripicca si mette insieme a un altro praticamente per fare ingelosire Peter e quell'altro porello viene pure preso a pesci in faccia la stessa identica situazione del film precedente con Harry Osborn Mary Jane, dillo subito che stai facendo di tutto per essere antipatica al pubblico almeno con me ci sei riuscita perfettamente ovviamente questo per dire che MJ non è migliorata ma proprio per niente e il mio odio per questo personaggio è aumentato riguardando questo film e il motivo l'ho già detto prima è ingombrante da fare schifo rubando quindi minutaggio al Dottor Octopus che è un'altra delle cose che mi hanno fatto amare questo film invece per la seconda volta infatti Sam Raimi azzecca il casting per un cattivo prendendo per la parte Alfred Molina che non solo è identico alla sua controparte fumettistica ma lo ha interpretato in maniera divina il suo legame con Peter poi per quanto sia approfondito in una sola scena viene reso speciale da alcuni dialoghi fino a quando non si arriva al discorso sull'amore mio dio basta Mary Jane basta BASTO il fatto che poi lui sia controllato dalle braccia lo rende anche un personaggio molto tormentato all'inizio infatti non vuole dare ascolto ai suoi nuovi amici ma dopo essere stato convinto tutto quello che fa lo fa di sua spontanea volontà anche se è leggermente condizionato e non solo leggermente e la sua redenzione alla fine lo rende il personaggio migliore del film grazie anche alla frase non voglio morire da mostro mi vengono i brividi solo a ripensarci Harry Osborn invece sinceramente non pervenuto è ossessionato da Spidey perché lo crede l'assassino del padre e basta questa è la sua trama che lo porterà poi ad essere uno dei villain del terzo film eh va bene però mi spiace ma non riesco a sopportarlo nel film è odioso odioso quasi quanto Mary Jane e questo difetto perché è un difetto dal mio punto di vista se lo porta dietro dal primo film avrei preferito infatti che ci fosse stato un maggiore approfondimento per lui ma così purtroppo non è stato e so già che nel terzo sarà ancora peggio e non ho cambiato opinione nemmeno su Tobey Maguire soprattutto in questo secondo film lo trovo ancora più fuori luogo nella parte ma riconosco comunque il suo impegno e dà il suo meglio nelle parti già citate prima quando perde i poteri nelle scene con Dr. Octopus insomma il caro Tobey ci ha messo l'anima e lo riconosco nonostante la sua interpretazione non mi piaccia granché c'è da dire però che in questo film la parte da sfigato è fin troppo accentuata con delle scene che dovrebbero essere divertenti ma che in realtà risultano imbarazzanti come quella dei fiori per fare un esempio e secondo me è anche un po' colpa di Maguire che ha un po' una faccia di fantoziana memoria per così dire ma menzione d'onore al personaggio migliore della cinematografia mondiale tecnicamente invece cosa si può dire? quasi nulla ovviamente soprattutto per quanto riguarda la regia di Sam Raimi che si mette in gioco mostrando tutta la sua bravura con alcune scene che sono entrate nell'immaginario collettivo come quella dell'horror hospital che da piccolo mi faceva cagare addosso letteralmente e ancora adesso è una delle scene più belle e inquietanti del film ma soprattutto il combattimento sul treno tra Spider-Man e il Dr. Octopus che dal mio punto di vista è una delle scene action con protagonista, un supereroe e il suo rispettivo cattivo più belle della storia del cinema che ancora adesso viene citata e omaggiata in numerosissimi film, fumetti e videogiochi il tutto accompagnato dalle strepitose musiche dell'onnipresente Danny Elfman anche gli effetti visivi nonostante comunque si veda il peso degli anni soprattutto nell'ultima scena del film i due elicotteri non me li scorderò mai sono di pregevole fattura e si meritano l'Oscar che di fatto hanno vinto in conclusione Spider-Man 2 e si una degna prosecuzione della storia dell'arrampica muri al cinema con un ottimo cattivo e un ottimo arco narrativo dedicato alla perdita dei poteri ma che ha comunque al suo interno delle sottotrame inutili e troppo ingombranti come la storia d'amore con Mary Jane si la odio la odio Mary Jane la odio in questi film la odio la odio e che purtroppo quindi non mi fanno piacere questo secondo capitolo più del primo ma comunque a livello qualitativo soprattutto tecnico li metto entrambi sullo stesso piano mentre per i combattimenti questo secondo capitolo lo ritengo un gradino nettamente sopra e tu sei d'accordo con la mia opinione o sei completamente in disaccordo? dimmi la tua scrivendo un commento qui sotto e con questo amici e amiche il video finisce qui vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutti